ciao a tutti oggi mi trovo in questo bosco rado per parlarvi del sambuco racemoso cioè del secondo sambuco sostanzialmente per importanza che abbiamo nel nostro paese se percorressimo una montagna idealmente così dal basso verso l'alto ad un certo punto è difficile fissare questo limite altimetrico comunque diciamo dai intorno agli 800 millimetri il sambuco nero lascia spazio al sambuco rosso o sambuco racemoso proseguono l'introduzione di questo discorso dicendo che questo succede a molti altri generi per esempio il sorbo montano lascia spazio a quello degli uccellatori o per esempio il ciliegio dolce lascia spazio nelle alpi al ciliegio a grappoli e così via cioè è una cosa proprio tipica delle fasce vegetazionali altimetriche il sambuco rosso tornando a lui diciamo è un sambuco è un sambuco diciamo no cioè sembra una battuta ma lo è per quali ragioni perché anche chi non lo conoscesse si accorgerebbe immediatamente della sua del suo stato di cespuglio diciamo appare così inizialmente assurgente diciamo e poi con un andamento prostrato soprattutto quando i frutti iniziano a pesare in un certo senso sono molto simili all'altro sambuco i rami che sono color marrone diciamo mentre gli altri sono grigiastri le lenticelle longitudinali che caratterizzano i rami se tagliassimo io l'ho fatto e vi metterò una foto in sovraimpressione noteremo che l'interno cioè il centro diciamo dei fusti è anch'esso con midollo anche se il midollo ha un altro colore come potrete osservare direttamente voi e così via la foglia è anch'essa tipica e molto simile a quella dei dei sambuchi in generale come vedete è una foglia composta in pari pennata in questo caso 5 ma esiste anche la composizione 3 e la 7 le foglioline sono in questo caso picciolate in altri casi soprattutto verso la cima sono sessili e tipicamente col bordo diciamo segmentato e la forma diciamo lanceolata con apice appuntito fin qui fin qui diciamo le grandissime analogie ora possiamo ricominciare diciamo riconoscere anche le differenze a partire dall'infiorescenza l'infiorescenza è tipicamente ad ombrello diciamo nel sambuco nero qui non possiamo vederla vi metterò delle foto ma nel sambuco racemoso ha una forma inizialmente globosa cioè come un grumo diciamo che nei libri così nelle pubblicazioni c'è scritto che è di colore rosa in realtà è grigio rosastro così no e poi si trasforma in un racemo fiorale in una infiorescenza praticamente quasi conica diciamo questa è una differenza abbastanza sostanziale che lo distingue dagli altri sambuchi se ci avviciniamo e osserviamo ogni fiorellino vediamo tipicamente che è costituito da cinque petali che crescono praticamente fusi insieme sono ovato arrotondati e rivolti all'indietro poco appariscenti poco vistosi sono addirittura meno vistosi i petali rispetto agli stami rispetto ai cinque stami e quindi siamo a cinque petali e cinque stami che sono rivolti all'insù e che hanno la parte proprio delle antere molto visibile giallastra mentre il resto dell'infiorescenza tende al bianco bianco verdino può variare leggermente a seconda anche della c'è una variabilità anche soggettiva nei vari esemplari no e e poi diciamo non possiamo trascurare ovviamente la parte femminile meglio il gineceo che è molto ma molto piccolo e molto visto molto poco vistoso cioè molto poco appariscente ma che è fatto di tre stili che sono fusi insieme con cresciuti e con la punta arrotondata che diverge però in cima no questi tre stili naturalmente daranno luogo al frutto il frutto come vedete è una specie di bacca bacca scusatemi che tecnicamente sarebbe una drupa come una specie di susina diciamo che ha dentro però non un solo seme ma a volte sono due o tre c'è chi afferma di trovare quattro semi io ne trovo sempre pochissimi sembrano semi di sesamo il colore come vedete è completamente diverso da quello degli altri sambuchi perché tipicamente diciamo rosso rosso vivo oppure rosso scarlato rosso segnale e in alcuni ambiti vedremo dopo che la pianta è molto diffusa nel mondo e in altri ambiti che io non ho mai osservato direttamente con i miei occhi anche tendente al violastro forse è la base diciamo da cui è dipesa la selezione che ha portato alle varietà a frutto scuro dunque bisogna ricordare che i frutti per per colpa dei semi che sono tossici sono non commestibili così liberamente diciamo sarebbero tecnicamente commestibili se noi sputtassimo i semi ma per noi umani diciamo la consumazione così come frutto di bosco non è ammissibile e non lo è nemmeno per molti animali gatti e cani compresi anche la volpe che è un canide tipicamente non si non si ferma su queste bacche ne mangia molte altre ma non consuma queste bacche per via della loro velenosità per questi mammiferi mentre a dire la verità per gli uccelli è tipicamente e commestibile per tutte le specie di uccelli che sono i responsabili della dispersione dei semi e della e della propagazione della specie a mezzo proprio del loro intestino ma qual è l'habitat di questa specie l'avrete già capito la montagna in che luoghi della montagna nei luoghi tipicamente nitrofili cioè dove è presente molto azoto quindi nei terreni ad elevato contenuto organico piuttosto umidi quindi nella riva per esempio dei ruscelli nelle zone tipicamente caratterizzati da drenaggio superficiale eccetera quindi molto facile il rinvenimento non è molto facile a dire la verità trovarlo in questo stato così rigoglioso diciamo perché per qualche ragione che un po mi sfugge un po sospetto di capire a volte la produzione di bacche è quasi interrotta io credo che sia per i ritorni di gelo o per una sua alternanza naturale per cui non abbiamo una diciamo sicurezza assoluta di avere sempre il prodotto diciamo la moltiplicazione di questa specie è facilissima si può ottenere attraverso i semi per esempio che devono essere però stratificati cioè devono superare un periodo di gelo invernale prima di germinare oppure per mezzo di talea legnosa se fate delle talee legnose con rami giovani vi consiglio di usare sempre un po di ormone da radicamento appunto per piante legnose non erbace e quindi la coltivazione è tutta lì basta trovare un posto in giardino al sole o in mezz'ombra ricordarsi di fare una concimazione con componenti di azoto abbastanza alta e tutti i vostri problemi di giardinaggio saranno risolti adesso vedremo invece la questione della consumazione della di questo frutto dell'eventuale dell'ipotetica consumazione di questo frutto ma si possono usare questi bellissimi frutti io qui vi faccio una brevissima introduzione ma devo farla per forza i studi farmacologici e quelli sulle proprietà diciamo alimentari del sambuco rosso sono pochissimi c'è stata una sproporzione pazzesca degli studi sul sambuco nero sul sambuco classico diciamo rispetto a questo un rapporto di 1 a 100 e quindi in letteratura troviamo pochissimo c'è una seconda ragione che è una diffidenza di base delle popolazioni montane nei confronti di questa bacca di questa specie di drupa che forse è dovuto al fatto che chi lo consumava poi si sentiva un po male per colpa della velenosità diciamo dei semi un terzo aspetto diciamo di interesse è il fatto che le prove proprio quelle eseguite proprio in cucina diciamo di consumazione cioè le preparazioni così le confetture eccetera hanno dato sempre dei risultati deludenti quindi da noi in occidente si fa pochissimo utilizzo di questa di questo frutto no ma non bisogna però tacere su una questione che riguarda il nord america e che riguarda le popolazioni indiane cioè le popolazioni native del nord america che hanno fatto un uso sistematico plurisecolare di questo frutto che era un ingrediente fondamentale nella dieta dopo però numerosi trattamenti che riguardavano per esempio l'essiccazione oppure la cottura oppure l'immersione in acqua corrente finché le componenti tossiche diciamo si allontanavano naturalmente l'eliminazione dei semi eccetera mescolamento a volte con altri frutti per rendere il tutto più gradevole quindi chi avrà ragione la nostra visione occidentale tutta concentrata diciamo sul sambuco nero o quella nord americana delle tradizioni dei popoli nativi io non vi do la risposta del tutto no ma vi affermo e dico diciamo che potete tranquillamente usare i fiori eliminando però il raspo cioè tutti i gambi diciamo che contengono dei glucosi di cianò con dentro dei cianati diciamo e quindi è meglio allontanarli e quindi impastellate tranquillamente i fiori eccetera oppure le bacche per fare una confettura dopo ovviamente l'estrazione dei semi cuocendo diciamo la polpa del frutto è nota anche la produzione di grappa cioè di acquaviti di questi frutti che sono delle acquaviti speciali pregiate costose con delle componenti aromatiche in qualche pubblicazione c'è scritto delicate ma in altre invece con delle componenti particolari dell'aroma che riguardano anche alcuni vini ma che io non approfondisco non essendo esperto l'eleganza assoluta di questa specie la sua bellezza aristocratica che si discosta da quella diciamo campagnola del sambuco nero ha fatto sì che i selezionatori di varietà per il giardinaggio se ne accorgessero immediatamente e immediatamente iniziassero ad individuare dei tipi che si differenziavano diciamo da questo per altri per altri per altri aspetti tipo quello delle foglie che troviamo nelle giardinerie a forma lobata o addirittura lanciniata oppure con colorazione dorata oppure più scura e che si differenziano anche per la fruttificazione magari più abbondante magari i frutti si possono trovare addirittura melanocarpici cioè neri oppure leucocarpici cioè chiari quasi bianchi sostanzialmente e quindi avrete spazio se avete un giardino in alta montagna o nel nord europa o una dacia in russia diciamo per tenerlo e per mantenerlo resiste a meno 20 è estremamente rustico diciamo ed estremamente elegante l'utilizzo sull'utilizzo dei frutti abbiamo già detto e quindi diciamo solo due parole nella sua diffusione che è tipicamente euro asiatica ma asiatica occidentale è presente nella molto nella fascia nord dell'europa non però nella penisola scandinava in irlanda in inghilterra dove è stato introdotto artificialmente sulla sua presenza nel nord america e quindi nella parte nord dei stati uniti nel canada e nell'alaska abbiamo già detto quindi arrivederci a presto con un'altra specie sarà un sambuco mi viene in mente adesso che ci resta ancora lebbio quello velenoso sul serio ciao